I complimenti sono d'obbligo per una città di Messina che ha davvero impressionato, probabilmente questo pareggio vi sta stretto. Il pareggio sta stretto sì, però la grande soddisfazione per aver dimostrato, una cosa che tra l'altro noi dimostriamo ogni domenica, di giocare al calcio. Sono contento perché oggi questo l'hanno visto in tanti, perché purtroppo questa cornice pubblica normalmente non c'è, purtroppo non ci sono tutti questi giornalisti. Oggi erano in tanti, c'era anche una televisione che ha fatto la rivista in diretta, quindi tutta la città ha visto come gioca al calcio in città di Messina. A noi piace questo, spettacolo, tenere sempre il pallone, non buttarlo mai. Poi ultimamente ci gira poco, perché oggi è un pareggio, almeno è venuto domenica scorsa in ligata, addirittura abbiamo perso, giocando altrettanto bene come oggi. Però su questo, quando si gioca al calcio, è una cosa che dà anche un grande sprone a continuare ad andare avanti. Noi siamo tutti appassionati di calcio, però del bel calcio, del bel gioco, dello spettacolo. Oggi, se mi permettete, vorrei anche dire che è stato un grandissimo spettacolo per tutta la città. Vedere tanta gente in tribuna, in curva, la grandissima correttezza, la grande passione per tutti, è uno spot positivo per Messina. Io spero che chi invece in altri campi, questa città l'ha così degradata, si guardi un po' intorno e capisca il segnale che oggi è stato dato da tutti i presenti al Celeste. Gente che ha voglia, gente che ha voglia positiva e questa è una cosa che ci aiuterà, se la sappiamo utilizzare, a far rinascere questa città. Col seno di voi c'è un po' di rammarico per qualche punto perso in trasferta o era impossibile chiedere di più a una matricola che comunque è in piena lotta a play-off? Non lo so, probabilmente, il rammarico ce n'è perché se rivedo alcune sconfitte o qualche pareggio con i solidi due o tre pali, con gol sbagliati sulla linea, può esserci il rammarico. Ma non si guarda mai indietro, si va avanti e siamo convinti di poter far bene perché partendo proprio dal gioco che esprimiamo. Il gioco è frutto di tantissimo lavoro, di applicazione e frutto del fatto che i ragazzi credono nel mister e questo sicuramente è una cosa molto importante. Alla vigilia di questa partita è arrivato anche il rinnovo delle cariche della Zancle e della città di Messina, segno tangibile e comunque questo progetto continua indipendentemente dai risultati del campo. Sì, mi è stato dato l'incarico di continuare a fare il presidente almeno per un altro anno e mezzo, però quello che è importante è che noi non solo abbiamo rinnovato gli incarichi ma abbiamo nuove forze che sono entrate in società, il gruppo si è molto rafforzato e il nostro progetto che è quello di fare bene per Messina partendo dal calcio è un progetto che sicuramente andrà avanti più forte di prima. L'otta playoff è serratissima, ha perso la Gelbison, ha perso il Licata, adesso c'è il Savoia che si è isolato in terza posizione e potrebbe essere un consistente ostacolo in più. Sì, il Savoia è una squadra che ha adesso inanellato una serie di risultati positivi, è una squadra che ha una tifoseria importante, finalmente il pubblico perché ricordiamoci nei primi mesi dell'anno il campo giocava a porte chiuse, sta prendendo fiducia nei propri mezzi, punta sicuramente a un risultato importante. Però credo che ancora ci sono 13 partite, 12 partite quindi è molto lunga. Noi dobbiamo dare continuità fin dalla prossima partita, ecco a Cosenza ci giochiamo tanto. A Cosenza tra l'altro dove, mi dispiace dirlo, qualche battutina fuori luogo era stata fatta prima di questa gara. Ho sentito addirittura l'allenatore, tra l'altro che ha detto che si è laureato a Messina, far capire che probabilmente a Messina sappiamo vivere. Noi a Messina sappiamo fare bene tanto, oggi l'abbiamo dimostrato, noi abbiamo giocato fino al 95 per vincere la partita, i pali ce l'hanno negato. Dall'altro lato c'è stata una squadra che ha giocato al massimo delle proprie possibilità, quindi andremo a Cosenza per fare bene sicuramente. A fine gara vi siete complimentati personalmente con i vostri calciatori, con il mister, avete apprezzato questa prova? Io apprezzo questa squadra, questo gruppo, questo mister, oramai è da tantissimo tempo, credo che i ragazzi sanno di aver fatto bene, noi in particolare però abbiamo voluto sottolineare io personalmente al mister tutto l'entusiasmo che abbiamo nei confronti di questo gruppo e nei confronti del mister che è il leader incontrastato. Grazie a tutti.